Si chiama Gronzi ed è una penna in grado di riprodurre 16 milioni di colori. Si tratta di un progetto lanciato da Indiegogo, una delle piattaforme di crowdfunding più famosi al mondo. Un dispositivo talmente incredibile e da lasciare ancora scettici molti addetti ai lavori high-tech. È uno scanner e una stampante insieme. Gronzi, infatti, identifica gli oggetti del mondo reale, memorizza il colore di quegli oggetti e, grazie alle cartucce contenute, li riproduce su carta. Detta così sembrerebbe la bacchetta della strega e, invece, è la penna del futuro. Si collega ad un'app disponibile per iOS e Android. Gli smartphone, in questo modo, potranno salvare i colori trovati e tenerli in memoria. Gronzi, infatti, grazie a tutti.